Quali sono le aspettative del 2015? Non ci siamo posti dei grossi obiettivi ma penso che l'impegno delle ragazze che ci hanno messo anche in virtù delle nuove entrate sicuramente qualcosa verrà fuori. Vedremo nella gara di settembre se ci sarà già qualche bella novità da comunicare. Esatto, l'anno scorso grande successo è la giornata rosa di Racconigi che viene riproposta anche per il 2015. Sì, la gara viene ripetuta di nuovo esattamente la terza domenica di settembre quando a Racconigi c'è la festa patronale su questa piazza perché ha avuto un riscontro visivo per gli sponsor, per gli organizzatori. Tutti sono rimasti entusiasmi. Difatti, forse noi abitando qui a Racconigi non ci rendiamo conto della bellezza di questa piazza col castello, però effettivamente incide parecchio. Poi il passaggio ripetuto del gruppo e della ragazza qui dà un notevole impulso e rende tutto molto bello. Francesco Giuliani, DS del Racconigi Cycling Team, ormai è iniziata la stagione 2015, saranno già iniziati gli allenamenti, come ti sembra il gruppo in queste prime fasi? Ma allora è un gruppo nuovo, ci siamo rinforzati di qualche unità, stanno legando molto come gruppo anche loro, abbiamo già fatto un collegiale a Badalucco proprio per creare il gruppo e fare la squadra e vedo che sono affiatate, hanno tanta voglia di correre. Speriamo di fare un bel inizio stagione e riconfermare la maglia tricolore che abbiamo vinto sia su strada che su pista. Io devo ringraziare principalmente tutte le famiglie delle ragazze che sono venute da noi perché eravamo in grosse difficoltà economiche e siamo anche tuttora in difficoltà economiche e abbiamo fatto una riunione e abbiamo detto che noi possiamo fare, abbiamo il materiale ma non abbiamo liquidità. Quindi per poter andare avanti dobbiamo metterci assieme e darci una mano a vicenda. Così è stato, le famiglie sono state disponibili a dare una mano alla squadra e di conseguenza siamo ripartiti anche in questo 2015. Non mi piace dire vinceremo o non vinceremo, ci proveremo. Vedremo durante la stagione come vanno le cose e di conseguenza proveremo a inseguire determinati obiettivi o modificheremo questi obiettivi in base a quello che vedrò durante la stagione dalle ragazze. Un obiettivo allora lo deve dire per forza? A me piacerebbe giustamente, visto che è una prova a squadre e valorizza l'intera squadra, provare a riconfermarmi nel campione italiano cronosquadre. Quello sicuramente perché per un tecnico vincere una prova a squadre è sicuramente il massimo. Poi abbiamo due ragazze nel gruppo della nazionale, nel settore velociste, una di loro veste la maglia di campionessa europea. Logico che proveremo a riconfermarci sapendo che comunque è dura, è difficile a quel livello. Grazie a tutti.